Una ricerca personale affianca le indagini degli inquirenti e le conclusioni sono le stesse. Lui è Edoardo Riva, fa parte della polizia locale di Milano e grazie alla propria cultura in ambito letterario e una predisposizione per l'investigazione ha vestito di nuovi particolari gli indizi raccolti dai carabinieri. Una sera a Riva, seguendo un servizio della trasmissione quarto grado, è rimasto colpito da un particolare di una lettera di erostrato. Quello che mi ha attirato è che in una di queste lettere si faceva riferimento a un concetto molto particolare che si ritrovava in un libro da cui diffusione era abbastanza limitata e rara, si intitola Gli Adelfi della dissoluzione. La parola magica, Katekon, un concetto teologico che indica ciò che trattiene l'anticristo ad avvenire nel nostro mondo. Le fonti a riguardo sono poche, tra queste proprio la Delfi della dissoluzione, libro che negli anni 90 fece scalpore per gli argomenti esoterici affrontati. Vi è riportata la seconda lettera di Paolo e Tessalonicesi, altra fonte del termine Katekon, commentata da Tommaso d'Aquino, una lettera scritta in rosso come quelle di Erostrato. Riva ha cercato il libro online nel sistema delle biblioteche venete, scoprendo che dalla laguna L'Ampezano è presente solo a Ponzano Veneto e Cesio Maggiore. Di Erostrato parlano a pochi autori, Pessoa, Alessandro Verri, Eco, Sartre e Camus. Nei libri degli ultimi due autori, Il muro e la peste, Erostrato prende in mano la pistola e spara. Questo è stato un ulteriore elemento che mi ha spinto prontamente a mettere i carabinieri a parte delle informazioni che avevo raccolto, perché comunque sicuramente il soggetto era in escalation, perché è passato dagli imbrattamenti agli incendi e poi ai gesti minacciosi in fronte dei bambini, quindi le caramelle infarcite di spilli e quindi era il caso di comunicare subito informazioni lasciando a loro poi di decidere se fossero importanti o meno. I carabinieri hanno ascoltato con attenzione il profilatore letterario, ogni sua parola si incastrava con precisione negli elementi raccolti e colmava ogni zona grigia. Non è l'unica persona che si è rivolta a noi per darci dei consigli o per darci delle indicazioni su chi poteva presumibilmente essere erostrato nel corso degli ultimi mesi. Lui invece non ci ha detto chi poteva essere, lui ci ha detto cosa poteva aver letto erostrato in base a quello che lui ha appreso attraverso i media. E in effetti tutte le informazioni che poi lui ci ha dato erano confermate dagli elementi che noi già avevamo raccolto e che andavano quindi a corroborare quel quadro che noi già che stavamo delineando. Nel frattempo un profilo compilato dal reparto analisi criminologiche di Roma evidenzia come erostrato possa aver avuto problemi con le istituzioni. Sarebbe il caso anche di Nemesio Quini che è il principale sospettato insieme al figlio Samuele e ha pagato con continui trasferimenti una segnalazione di irregolarità sul posto di lavoro mentre era l'agenzia delle dogane di Venezia. Per chiudere definitivamente il cerchio si attendono le perizie degli hard disk trovati in casa e negli scritti.